Bene, proseguiamo nella nostra avventura, Iside ascolta la mia supplica e andiamo. Settina è già nostro ospite? E ora lo siete anche voi. Imprigionatemi! Iside, ascolta la mia supplica. Sono stata tradita da un servo di Sett. Dammi la tua benedizione e potrò vendicare. E vendichiamoci! Vieni qua. Voi mettetevi al lavoro. Voi, andate un attimo qua. Inizia a fare il giro, va? Ok. Potenziamo tutto. Sì, esatto. Sì, esatto. Qua siete al sicuro. Che è successo? Dove è andato? Dove è andato? Venite qua. Perchè fate cose che non dovete fare? Eh? Allora... Voi iniziate a oro. Servono delle persone. Buone. La traspinge. Aspettiamo un attimo. Ok Quig 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 Vai a oro In miniera Ok E voi cosa fate ancora lì? A non fare niente Non si può a non fare niente Inizia a difendere La situazione qua Diamo una mano E c'entra il cittadello In prigione L'isola Prigione Direi che Vai Vediamo 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 Direi Che ci siamo Ok 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 Vai Vai Fai un granaio Va Che mi salvano i suoi potenziamenti Necessito Viva Viva bravi sacerdoti, curate ok, tagliare tengono gli animali in via larga d'alfattoria, rendono più rapida la produzione di cibo mi serve perché siete fermi? detesto chi non fa nulla distruggi la fortezza migdol di gangaret cioè questa quindi devo andare qua per forza a regola come dice spesso a madre servono ingenti forze se non attacca in massa lei non è contenta qui ok questo lì 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 perché lì io me la sto prendendo comoda mi batterebbe fare facciamo vedere che siamo perso un cine serie mi siamo andato vai bravi altri due sacerdoti che non fanno mai male bravi bravi Grazie a tutti. 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 Ora capisco cosa intendeva Amara per grazie Isida. Ottimo. Grazie a tutti. Allora... Un'altra di questi... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cattivoni... Che non siete alti... Vai, vai, vai... Vai, vai... Vai, vai... Grazie a tutti. 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 Potenziamo le nostre creature col potere eclisse. La cosa l'hai capito? Grazie a tutti. Allora ma distruggi lì. Andate ad aiutarla, va là che è rimasta incastrata. Sei scastrata? Non è male. Abbiamo! Abbiamo tanto da distruggere. Sì, sì, tu mi vuoi far andare lì. Ma io ho deciso che... Ma io ho deciso che devo rudere al suolo tutto. No, 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 no. All'attacca... All'attacca! All'attacca! Ok, ok, ora potete divertire. Ok, ora potete divertirvi. All'attacca! 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 Avete finito qua? All'attacca! 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 Prendete! All'attacca! 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 Ok, si esenta qua anche voi. Dai, su, all'attacco. Dai, su, all'attacco. Ok, torniamo indietro. Allora, c'è qualcos'altro da distruggere? Direi che siamo a bolla. Quindi, torniamo qua, che c'è ancora qualcosa. No, possiamo andare avanti. Pa, pa, pa. F'. Mi sono? Mi sono? Beh, non positive per cui sono? Siamo già a bolla? Ok Andate qui voi Curatevi Si dice di andare al porto Andiamo al porto Voi andate qua Facciamo scendere un attimo Perché qua c'è una stradina Da percorrere Ah, ok Ci vuole due città Ok, non mi servono più a niente Direi che basta Allora, tornando a noi Decido di morire Non ti devo dire Voi non entrate Rimanete lì Anzi Tornate qua Ormai minazze Ce ne sono più poche Ok, ci siamo Andiamo a liberare I nostri amichetti In which And we're in tosse scontro fra unità mitiche tranquilla tartughina ci sono io a posto vediamo se c'è anche qualcun altro onde evitare ok andiamo di qua dove vai avanti ok direi che siamo liberi ora dov'è che ha una alla volta ok poi poi dov'è ora a posto liberi tutti lo so è modalità facile così però iscrivetevi così magari futuro se vi può piacere il contenuto faccio qualche sfida un po' più cattiva eh mi hai ostacolato in Grecia sei fuggito dall'oltretomba e sei arrivato qui prima di me è impossibile che abbia fatto tutto da solo ora saprò quali dei ti aiutano Poseidone protegge tutti gli abitanti di Atlantide Poseidone sei più stupido di quanto credesti vediamo se ti protegge adesso forse avrai meno voglia di combattere quando ti staccherò la testa mi dedicherò aiace io ti adoro abbiamo questioni più importanti di cui occuparci alla piramide di Ossuride bene signori questo episodio si conclude qui ci hanno rubato il pezzo di Ossuride e quindi ci vediamo al prossimo episodio quindi vi auguro una buona continuazione di qualunque cosa state facendo se siete arrivati fin qui mettete un bel mi piace a questo video che male non fa soprattutto a me a voi nemmeno non vi costa nulla mettete mi piace iscrivetevi azionate la campanellina insomma tutte quelle cose che possono farmi felice se lo fate quindi alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti